Maestro, che lettura ha dato delle opere eseguite questa sera? La lettura il più possibile fedele al testo, anche se questo significa tutto e significa niente. Ogni interprete cerca di dare una lettura in accordo a quello che legge nella partitura. Poi chiaramente la storia che hai alle spalle ti fa prediligere certi elementi rispetto ad altri. Chiaramente nell'opera di Shostakovich c'è questo grande solista Leonidas Cavacos, quindi la lettura è molto controversa, nel senso che c'è questa pace apparente di Shostakovich che vuole non dare fastidio al Soviet, al potere, e d'altro canto invece il suo dramma di non riuscire a dire quello che vorrebbe. Poi di fatto riesce a dirlo camuffandolo, quindi è un funambulo da questo punto di vista. Vorgia che allo stesso modo, con questa sinfonia scritta nel suo periodo di tre anni in America, praticamente ci dice la sua nostalgia per l'Europa e quindi insomma è quasi un canto emotivo nei confronti della terra che ha lasciato l'anno dopo ritornerà in Europa e quindi ecco questo senso di nostalgia. Le visioni che aveva prefigurato all'inizio di questa 49esima edizione si sono quindi composte, secondo il suo giudizio, agli occhi del pubblico dello Stresa Festival? Ma la risposta dovrebbe essere data dagli spettatori, nel senso che il progetto c'era, secondo me i concerti hanno dato addirittura degli ambiti più vasti di quelli immaginati sulla carta, quindi sì la narrazione e la visionarietà dovrebbero aver lasciato un piccolo segno nei cuori di ciascuno.